Tutti sanno ma nessuno interviene, così ripetutamente dicevano in tanti, rimarcando lo spaccio di droga alla luce del giorno e della notte nelle mani di africani sul lungomare salernitano, mentre la sezione falchi della squadra mobile di Salerno lavorava con sofisticate apparecchiature per filmare venditori ed acquirenti di droga sul lungomare Trieste. Per la prima volta con l'utilizzo di un nuovo strumento, la procedura dell'arresto ritardato che attribuisce un notevole e più incisivo potere alle forze di polizia, estendendo la possibilità dell'arresto in contesti temporali in cui la flagranza sarebbe ormai trascorsa, si è arrivati alla cattura dei responsabili in maniera massiccia con prove alla mano sulle condotte di spaccio di ascisce e cocaina. La polizia di stato di Salerno ha smantellato una fiorente attività di spaccio rivolta prevalentemente ai giovani che avveniva nei giardini sul lungomare di Salerno, luogo tradizionale di frequentazione di famiglie, giovani e bambini. 17 gli arresti disposti dalla procura della Repubblica di Salerno nei confronti di cittadini in maggioranza gambiani. I particolari delle accuse e degli arresti sono stati spiegati questa mattina in procura a Salerno nel corso di una conferenza stampa alla presenza del procuratore aggiunto Luca Masini e della dirigente Lorena Cicciotti, capo della squadra mobile di Salerno. Le attività di indagine sono iniziate lo scorso mese di febbraio a seguito dei numerosi arresti in flagranza eseguiti nei confronti di cittadini di nazionalità gambiana sul lungomare Trieste di Salerno e delle diverse segnalazioni della cittadinanza salernitana arrivate all'attenzione degli investigatori. Le indagini hanno permesso di accertare la presenza costante di un gruppo di stranieri che durante la giornata effettuavano molteplici cessioni di sostanza stupefacente a numerosi acquirenti in quello che può essere definito il salotto sul mare di Salerno. È stata prima un'attività di intelligenza in relazione all'osservazione, ossia servizi costanti di osservazioni, fatti in particolar modo dalla sezione falchi della squadra mobile. Atteso che ci sono stati tutta una serie di arresti in flagranza effettuata nei mesi scorsi da varie forze di polizia, si è ritenuto opportuno e doveroso fare questo tipo di attività, utilizzando appunto lo strumento che è stato riferito dal procuratore in sede di conferenza stampa. La maggior parte di nazionalità gambiana, qualcuno della Guinea, la maggior parte richiedente asilo politico, sono persone dedite allo spaccio che nulla hanno a che fare con quest'altro fenomeno assolutamente. Sono state due le fasi operative alquanto complesse, la compiuta identificazione nel momento delle attività d'indagine e l'individuazione dei luoghi di dimora successivamente. Quindi attività di osservazione costante che ha permesso una volta individuati, una volta identificati, stabilire quale fosse il luogo di dimora. I cittadini hanno manifestato in qualche occasione, ci è stato rappresentato, ma già quando si sono verificati i precedenti arresti in flagranza di reato sul lungomare, perché ribadisco sono stati fatti una serie da parte nostra e anche da parte di altre forze di polizia, quindi arresti in flagranza che poi non hanno permesso la permanenza in carcere, attesa il loro status sia di richiedente asilo sia di incensurati. Quindi è per questo motivo che è stato alquanto complesso strutturare un po' tutta l'attività. Grazie alle telecamere siamo riuscite ad individuare quelli che erano gli acquirenti e ad effettuare giustamente il sequestro della sostanza stupefacente. Quindi un'attività di osservazione di telecamere e anche sul territorio. Di questo devo dare atto che siamo stati coadiuvati anche dal servizio UPCSP della Questura di Salerno, quindi l'ufficio volanti che ci ha coadiuvato in questa attività.